ciao a tutti allora video punto decorazione agenda c'ho 50.000 luci qua perché sono le stesse e mezza e come sapete fa già buio devo fare tutto con una mano perché ancora non sono riuscita a prendermi il braccio per forse da una parte è meglio così riesco a farvi vedere meglio nel dettaglio allora questa è la mia decorazione come vedete allora ho deciso di mettere questo questo washi tape no deco che non è un washi deco questo qui marronea può della lidl perché siccome volevo fare la decorazione con questi adesivi che avevo preso dei cinesi a piantine e mi dava l'effetto tipo della terra no poi qui nei contorni con e anche qua ho fatto sempre con lo stile che mi sta piacendo molto ultimamente con direttamente l'inchiostro il timbro e qua sempre l'ho fatto con con lo scottex che si mette a fuoco e niente poi ci ho messo tutti queste queste piantine queste piantine appunto che avevo preso dai cinesi niente qui c'è scritto tutto poi magari se ci sarà qualcosa aggiungerò spero che la mia decorazione vi piaccia questa decorazione pianto un pia piantosa si può dire e niente mi mando un bacio e come al solito se vi faccio vediamo la prossima ciao ciao